Cari amici ben ritrovati, siamo nuovamente insieme, benvenuti in casa Renault e Dacia, benvenuti alla D-Auto di Cirie. Insieme a me c'è il responsabile Maurizio Di Labio. Ciao Maurizio, benvenuto. Grazie anche a te, benvenuto anche a voi della vostra visita così attesa per far conoscere la D-Auto a molta gente cui non sa della nostra esistenza. Bene, intanto noi ci aiutiamo con le immagini, ovviamente una grande sede, una grande esposizione, un grande salone dove trova posto tutta la gamma Renault. Se dovessimo dare le coordinate, due indicazioni per raggiungervi, Cirie siete un po' il punto di riferimento per Renault e Dacia. Siamo alla rotonda all'ingresso del paese, quindi sulla sinistra per chi proviene da Torino-Caselle e uscendo siamo sulla destra per Torino, quindi sulla strada direi. Bene, ovviamente tanto spazio a disposizione, noi potremmo come consuetudine nel corso delle nostre trasmissioni, nel nostro contenitore dedicato alle quattro ruote, parlare di tante opportunità d'acquisto, della gamma Renault, della gamma Dacia, di finanziamenti, di servizi alla clientela. In realtà, quello che vogliamo chiedere a Maurizio, sappiamo che siete molto bravi ad esaudire i desideri dei vostri clienti, a venire incontro alle vostre esigenze. Siamo venuti a mettervi alla prova, è così? Direi che è facile dire sì, ma forse anche no. Ogni tanto sbagliamo e cerchiamo di correggere, assolutamente. Vediamo, vediamo, vi mettiamo subito alla prova e vediamo che cosa ne pensano da casa. Ehi, son tornato. Oi, ciao. Com'è? Tutto bene, e tu? Eh, bene. Oh, grazie per la macchina. Eh, grazie. Però compratela sta macchina. E compratela sta macchina, la fai facile tu, pare che te le regalano. Ma tu lo sai cosa vuol dire comprare una macchina oggigiorno? Ma ne c'è affare, ma... Hai provato da Di Auto a Cirie? No, cos'è? È un concessionario. Dove? A Cirie. Sì, ho capito a Cirie, dove? Da Torino, prendi la bretella per caselle, esci da caselle, entra a Cirie, la terza rotonda sulla sinistra c'è il concessionario, c'ha delle macchine stupende, ti faccio vedere. Hanno appena messo un video con le offerte della settimana. Ehi, tu! Dici a me. Sì. Dico proprio a te. Dici a me. A te che mi guardi con quello sguardo un po' spento. Con quella barbetta un po' incolta. Ah no, dici a te. A te. Con quella coda selvaggia. No, dici a me. Vieni a visitare il nostro parco auto. E ne abbiamo per tutti i gusti. Carino. Siamo anche facili da raggiungere. E ora l'offerta della settimana. Benvenuti da The Auto Hub Operator. Io sono Aurora e sono qui per mostrarvi l'offerta di questa settimana. Abbiamo una meravigliosa Renault Clio Life 1.2, 16 valvole, 75 cavalli. Luci diurne LED. Electronic keycard. Dotata di start power. Attacchi Isofix. Radio con comandi al volante, Bluetooth e USB. A partire da 9.950 euro, corri tiro per motor ottamazione. Vieni a trovarmi. Oh, ma lo sai che mi ha convinto. Grazie. Ci faccio un salto. Oh, la macchina. Buongiorno. Buongiorno, lo stavo aspettando. Oh, bene, grazie. Ma lo sa che in video sembra più magro? Quale video? No, niente. Mi segui in ufficio. Mi dica di che cosa aveva bisogno? Ma stavamo cercando un 4x4 da stare un po' comodo. Magari la domenica prendo, vado a fare un po' di crossing. Quanto mi può costare? Lei è entrato nel posto giusto. Ho proprio l'auto che fa per lei. Un 4x4, full optional, i cerchi cromati. Ideale per il crossing. Siamo intorno ai 30.000 euro. Ah, 30.000 euro. Ma che porere di montagna non è che faccia bene così come dicono. Anche non un 4x4, un 2x2, per dire. Lei cerca un'utilitaria, full optional, cerchi cromati. La farebbe la figura. Ce l'ho. Siamo intorno ai 20.000. Che puoi full optional? Posso anche abbassarle a mano i finestrini, no? Ma poteva dirlo subito. Lei sta cercando una base. O anche quella. Partiamo da 9.000 euro. Mi tolga una curiosità. Ma con 100 euro cosa può darmi? Le piace? Ma bella è bella. Ma almeno il motore? Eh però anche lei con 100 euro. E allora abbiamo voluto divertirci insieme a questa produzione di Encomica. Li trovate su Facebook. Insomma questa è un po' la filosofia dell'azienda di auto. Auto ma non solo auto. Tutta la gamma Renault e Dacia a vostra completa disposizione. Non solo. Anche nuovo che abbiamo sottolineato. Usato chilometro zero come qui e tutto il resto della gamma. Usata ovviamente da 100 euro come il filmato. Insomma anche se avete i 100 euro del protagonista venite comunque a presentare la vostra esigenza perché qui a Ciriè l'azienda di auto Renault Dacia e vetture d'occasione di tutte le marche in compagnia di Maurizio Di Labio sarà in grado di soddisfare le vostre esigenze. Quando si acquista un'auto si pensa sempre certamente al prezzo ma... Assolutamente sì ma non solo il prezzo. Scopritelo. Quindi scopritelo qui in azienda dove avrete tutto lo staff a vostra completa disposizione. Non soltanto la vendita ovviamente ci sono i servizi alla clientela, il post vendita e soprattutto riceverete la stessa accoglienza dei protagonisti del filmato. Grazie a Maurizio Di Labio responsabile. Alla prossima volta? Certamente sì. Al prossimo filmato. E grazie ovviamente all'azienda di auto Renault e Dacia di Ciriè. Di Auto offre una vasta gamma di autovetture nuove usate a prezzi convenienti. Consegna immediata e assistenza in sede. Di Auto SRL Ciriè. Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!